Il disegno di legge che istituisce a partire dal 1 gennaio del 2014 10 città metropolitane in Italia ha pesanti profili di incostituzionalità e per questo va subito riformato. A dirlo è Antonio Saitta, numero uno dell'Unione delle Provincie Italiane e presidente di quella di Torino, arrivato a Firenze per mettere nero su bianco insieme ai colleghi delle altre nove future città metropolitane, una proposta di modifica da presentare al Parlamento e al ministro per gli affari regionali Graziano Del Rio. Obiettivo principale è restituire ai cittadini il diritto di eleggere il presidente dei nuovi enti territoriali. Diritto per ora negato visto che l'attuale proposta del governo prevede che fino al 2017 saranno automaticamente i sindaci dei comuni capoluogo a ricoprire questa carica. Noi riteniamo che un ente che deve decidere soprattutto per combattere i localismi e avere la forza delle elezioni dirette. Un sindaco metropolitano è eletto da tutto, un consiglio eletto da parte di tutti gli permette di non subire i ricatti del localismi che sono i grandi problemi che un ente di area vasta deve affrontare. Non solo, l'Upi invita anche il governo a concedere più tempo per il passaggio di funzioni tra le province e le aree metropolitane che per ora è previsto per il prossimo primo luglio, il tutto in un'ottica di riforma istituzionale complessiva. Sarebbe l'ora che si considerasse tutti i livelli istituzionali e dunque una riorganizzazione che parta dalle province indiscutibilmente ma che riguardi anche le regioni e anche l'insieme dei comuni. Rimane poi l'estrema razio proposta dalla provincia di Milano, istituire cioè un referendum consultivo e far decidere ai cittadini se vogliono eleggere direttamente il presidente della città metropolitana o meno.